benvenuti carissimi miei in questo nuovissimo video qui con voi c'è sempre il vostro caro nico dei pokemon anche questa volta non solo ragazzuoli un altro giorno no per voi si per noi siamo siamo qui dalle 12 pomeriggio ma ci piace così ragazzi ci piace si in realtà si sono tutte le schiaglie oggi sforniamo contenuti per lui oggi sforniamo contenuti per il nico detto questo questa volta vedete fra indietro perché fra ci farà da spectro da judge no in realtà no siamo qui per valerio valerio cosa ci apre quest'oggi ragazzi abbiamo aperto team gambit abbiamo aperto il set blister francesco ha aperto i blister e i mini team e noi perché cosa andiamo andiamo per la collezione di kingdra due collezioni di greeny jayas fantastici le ardua sono bellissime delle proprie due fantastiche collezioni da cinque pacchetti in una giusto valerio due cosmo holo è una ex finissima ragazzi kingdra kingdra è bellissima le prime volte non pensavamo fosse lo provo e lo erano si effettivamente sono bellissime c'è letteralmente ragazzi se volete fare il mazzo kingdra prendete tre di queste collezioni e siete a posto veramente pullate gli ursi e sidra state a posto finito no scusate prendi tre stanno insieme ragazzi comprate volete fare kingdra sicuramente è quello più competitivo tra i due sì il grey ninja è il grey ninja del mazzo lotta i ex solo che gli hanno dato la skin figlia adesso non skin figlia tanta roba ragazzi tanta roba per iniziare come sempre abbiamo benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale e bentornato a coloro che ci seguono sempre abbiamo come sempre il fra che è qui non l'abbiamo saluto oggi spector e valerio ragazzi e valerio direi di andare subito al back opening perché valerio vuole sbustare le robe le robe quelle... speriamo di trovare qualcosa dai dopo la sfida dell'ultima volta guardate il video per ricordarvelo esatto bravo valerio cosa vuoi trovare in queste collezioni guardate la parte di kingdra che ce l'hai già spero di trovare qualche ex magari che mi banca anche qualche alt sarebbe bello un alfora gold non sarebbe male non faccia nicola adesso tra l'altro non abbiamo ancora trovato una gold in tutto quello che abbiamo aperto e neanche una alt quindi attenzione attenzione ancora detto questo andiamo al back opening ragazzi pensavate che mi stavo scordando in descrizione andateci ragazzi andateci card market instagram mio instagram del fantastico negozio del fra game style albero bello non vi scordate ci trovate lì il fra è lì il manager è lì venite ragazzi siamo sempre là il judge è qui è lì anche manga funk o pop ve lo devo ripetere manga funk o pop magic giochi di cante collezionabili one piece tutto tutto quello che volete anche postazioni per giocare ragazzi se volete provare i vostri giochi preferiti il fra vi darà la possibilità di farlo a un prezzo moderatissimo tutto ragazzi sembra una pubblicità va bene ragazzi infatti è quello che devo sembrare è bellissimo una fantastica pubblicità detto questo andiamo al back opening ragazzi ed eccoci qui ragazzuoli doppia collezione kingdra e greninja valerio su quale vuoi iniziare a mettere le tue zampe inizierei da kingdra ragazzi è l'atto più bello dei tuoi comunque tanta roba greninja popolare è tutto però la tua kingdra è bellissima kingdra in questa espansione spacca ragazzi vai valerio a te l'onore di sdrammare la cartona ce la farà si valerio la distrugge letteralmente io le conservo e lui le devasta grazie ma è super efficiente è super efficace esatto possiamo togliere anche la plastica attenzione che kingdra ah kingdra poi soffoca c'ha debolezza c'ha debolezza debolezza plastica non lo sapevo è bello abbiamo 5 bustine non tutti i 5 artwork purtroppo e abbiamo anche le brume vediamola vediamola abbiamo questo e l'orsi carino devo dire la verità non il migliore orsi e abbiamo anche il bellissimo kingdra mamma mia questo è spaziale ragazzi bello 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 quella luna in sottofondo scusate tolgo questa la cascata tranquilla bellissima veramente dovete farci il mazzo bella bella si ragazzi compratetevi questi effettivamente e via avete fatto il mazzo bellissimo iniziere con benza pt ormai fenza fenda fesam dipiti fesam dipiti ragazzi lo sapete io leggo come una button si si valerio ha il suo pokédex a parte andiamo in codice andiamo energia uuuuuh subito subito non si vede ma lo è ma si vede da qua ragazzi guardatevi sono in bianco sotto le schienze quando è reverse ascoltate valerio bene giotti mai, dai che completi il mazzo tipi, palena fermea arte segreta di Mila, e 6 a 3, macchinazioni di Xanto e 6 a 2, ah, perseveranza di acromio, zorra reverse, e copparagia, ragazzi, un pacchetto per il competitivo è carino il copparagia beh, ci possiamo trovare ormai, chissà, ma è carino il copparagia non ti puoi fare qualcosa di carino, beh, Nicolai, io so che ti piace a tutti oggi, ti lascio la bustina grazie, ragazzi, guardate che, che, che bel cagnone che bel omone, allora sì, sì, te lo lascio, non ti preoccupare, sono geloso energia, no, no, mi spiace, ci abbiamo provato abbiamo, orsi, ricominciamo con orsi, cute fang aspetta, mi rivedo la bustina di prima, no, Zubat non c'è, niente Raulet, Cobra ora ci dovrebbe essere un altro allenatore niente, Farina Ferre prima reverse di Cressidra seconda reverse di Cressidra ah, è bello, e la rara, la rara uuuuuh questa è una carta che qualcuno qua vuole tanto 4x aiai è lui proprio aiai benissimo macchinazione di Xsante grazie Nicolai ragazzi, mamma mia bellissimo questa, ragazzi, se mi riesce il miazzo la odelete tutti in Lega io ve lo dico ah, la prima full art prima full artina ah, e di nuovo le coincidenze della vita se va avanti così però ti va bene va benissimo, perfetto bene, andiamo a togliere energia olografica sì buio e andiamo, e vai le prossime buio di valore sono mie Daltrix o mazzo agli unite ricordatevelo Arzol Houndo Raulet parella notturna buona non giornaliera mazzolo di notte Galvantula Houndo reverse Rogan reverse e Daskmar Buono ne hai già due buono questo buonissimo bene metto mano sul cano vedi vedi doggo ragazzi doggo che prima magari non hai un'altra macchinazione di Xante che ne sai beh vedremo vedremo ooooh sarà un'energia no bene mi spiace o il bellissimo Drauzi Drauzi Abzol Sidra ooooh quattro perdi Daltrix eccolo eccolo macchina di Xante lo abbiamo trovato ragazzi il cane vi da quello quindi Silveon oh moccio golosissima anche se abbia velena doppia golosità ma si se esce la terza reverse rido con me doppio mocio pulino pulino no reverse disneyton assorto niente niente olografica di ursa bello ragazzi bello bello questo è veramente carino e poi mi leggo che fai mi sarebbe piaciuto beccare un'altra volo diversa da coperagia si coperagia e ce la puoi fare e ti metta ma cerca ecco fa 230 in più per ogni segnalino d'anno presente sul poco macchino niente nsi a reverse l'attivo del tuo avversario non è male abbiamo aveva detto l'abilità pure mando giù di questo poco dalle tua mano lo metti in panchina durante il tuo turno questo viene fino a noi sidra ali rasenti cassiopeia this ui un altro mochi reverse attenzione axorus reverse e tabubu mi sa tanto che ti ha portato fortuna solo il nick eh grazie nick froslas oxaluna bene andiamo per il green ninja ragazzi ragazzi io stavo già studiando il master mi sembra più che giusto tanto spoilerare il video no 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 se no non li guardano più dopo no no perché guardate sempre il video tecnico ragazzi supportiamo il dico dai esatto supportate che sopportatevi soprattutto le bustine ragazzi e qua ci sono tutti ci sono tutti è vero e due scemi non sono cinque gli arthur no sono quattro no quattro sono quattro ah e si perché ci sono i tre abbiamo provati no pensavo ci fosse un king gra o un green ninja ma no no ci sta e poi abbiamo la bellissima alt di green ninja bella bella anche questa eh è la più bella anche dell'alt di di crepuscolo si assolutamente e non c'è il bellissimo palloncino in testa o solo di tipo lotto ragazzi l'alt di crepuscolo è diciamo un po' più artistica a quei colori un po' così però questa è tanta roba è un green ninja tradizionale questa è bellissimo tanta roba ragazzi bene prego Nicola inizia pure tu inizio con fene inzipiti si va bene va bene Valerio vuole usare subito la fortuna queste bustine si stanno aprendo in una maniera assurda è bellissimo veramente tenga grazie tranquillo te la metto qui energia oh metallo energia metallo e andiamo con dustclops miau zoro un due arte segreta di nina sto piegando tutte per colpa delle bustine notte arte segreta un'altra macchinazione ormai Nicola me li trova tutti i due le macchinazioni vizzanti poi abbiamo ecco il cure il cure il cure che andrà nel mio mazzo poi abbiamo una reverse prima reverse di Persia seconda e una reverse di sidra ormai sidra c'è il doggiotto per la rara niente un tapobulo che ha colonizzato le mie euro si 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 tra di scimmia un po' chi c'è dopo per te c'era anche un occhi dodici c'era anche Cresselia Cresselia Genesect altra stai apposta mi tocca peccato ora trovo la culatta eh no coparaggia ti pigli un bel coparaggia posso? prego prego apriamo il doggo ragazzi il dongo per un bel doggo alt bello fisica ti piacerebbe un bel doggo alt non mi dispiacerebbe sempre meglio di niente come con la proxy nel mazzo esatto energia metallo questa stavolta scusa tranquillo Zorua anche Zorua che sarebbe tanta roba Cufant Dasco Axiu che si nasconde Ivelta che non si nasconde 38x Cressidra Energetica Genese Anche questo 18x Prima reverso e niente ho detto che ve li trova tutti noi Ogni pacchetto che trovo è sempre un xante Seconda è un reverso Giubatt Giubattino e la rara niente un altro tapu culo ragazzi tapu culo però stai a posto con gli xante eh se no penso di si andiamo di scimmia scimmia spero di trovare qualche x meno si anche perché su 10 bussini una full art va bene tutto ma ho trovato 2 ok ho trovato 3 3 energie jolti orsi cute zuba mochi galvantula clessidra mia preverse c'è qualcosa c'è qualcosa ragazzi c'è qualcosa c'è qualcosa è dusknoir dusknoir da fortuna ragazzi è una roba di totale è Cresselia bella questa ragazzi questa è tanta roba finalmente un qualcosa un dusknoir che ti spia da dietro al vetro totalmente non inquietata ora te la lascia attenzione non sembra affatto quello che faccio il più meglio no no per niente non te lo stai facendo di più piccarant piccarant per piccarant c'è la gold c'è l'alt c'è la full art lo spero mi ha contento di una qualsiasi cosa come lo vuoi il Pitcheront? in tutti i Pitcheront troviamo tutti i Pitcheront qui abbiamo una holo non lo devo dire ho un altro Dalatrix ragazzi hai visto? ora puoi fare il mazzo lo potevo fare Daskal Undum Stufull Wivac Garvantula Sicilion prima reverse di Stufull seconda reverse seconda è una reverse di Toxic tra l'altro ancora non avevamo trovato un Toxic la rara l'abbiamo trovato? si full artina niente non ce la spoileriamo full art di FENENZIN i piedini FENZIN non si vedono i piedini non si vedono i piedini non si vedono full artina due full art te lo trovate meglio di niente dai il mio l'ho fatto beh dai due galleri due full art è una galleri però hai un bellissimo King Hydra e tre energie queste collezioni direi di andare con i faccioni facciamo le ultime ultime considerazioni 10 pacchetti tre pullini guanchiolo è andato meglio sicuramente delle mini teen sicuramente guardatevi il video ragazzi se non ve lo ricordate questo sarà il primo meme di segreto fiabetico ragazzi sicuro sempre meglio delle mini teen perchè effettivamente è andato meglio delle mini teen ragazzi ma spero guardare il video se no non ho ragione di riguardarlo l'ho già visto andate a guardare il video guardatevelo di guardare ragazzi mi raccomando andate a guardare il video di nuovo guarderete il momento esatto in cui mi si è spessato il cuore esatto dovete beccarlo quel momento vedete quell'uomo di dietro se no becca si becca uno sconto di un centesimo da Francesco un centesimo tanta roba aggiungo un altro centesimo io io pure siamo a tre centesimi ragazzi tanta roba meglio di così ragazzi non potete andare esatto detto questo Falerio sei felice? no 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 scherzo comunque il D'Asuna è bellissimo le manchiazioni di Xante sono contento perchè potrò giocare contro Nicola quando inizierà anche lui a giocarlo esatto mi sembra giusto mi farò una reverse card lo vedo l'ora mi sembra giusto mi sembra giusto detto questo direi che ci possiamo salutare e andiamo al prossimo video ragazzoni ciao a tutti